Zanzare, insetti e topi provenienti dall'area verde antistante alle abitazioni. A segnalare la problematica sono alcuni residenti di Via Rosa Gattorno, che tornano a chiedere un intervento di pulizia. Si tratta di un'area privata, ma la vegetazione sta occupando in parte la strada e diversi abitanti della via si rivolgono al comune per chiedere che venga messa in ordine. Nel frattempo le telecamere di Tele Libertà sono tornate nel boschetto di Viale Malta, dove regnano il sovrano e le piante infestanti. Il demagno, proprietario dell'area, dopo un abbattimento che era stato contestato dagli ambientalisti e dai residenti, aveva annunciato l'intenzione di effettuare un rimboschimento delle due zone verdi con essenza autoctone, ma nulla è stato fatto e a distanza di oltre un anno dall'annuncio, l'area avversa in condizioni di profondo degrado. L'indirizzo e-mail per le vostre segnalazioni è tucronistet.tv